Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, l'agenda dei prossimi giorni, venerdì a San Pietro, è previsto un evento all'auditorium di via della conciliazione con divieti risoste e possibili chiusure. Sabato invece, nel pomeriggio, manifestazione politica a Piazza del Popolo e corteo tra Piazza dell'Esquilino, via Cavour e largo Corrado Ricci con una possibile deviazione per 14 linee di bus. Domenica, infine, dalle 18 allo Stadio Olimpico, il derby Lazio-Roma, l'area del Foro Italico, è servita dal tram 2 e da 16 linee di bus in arrivo dai diversi quartieri cittadini. Domenica, infine, dalle 18 allo Stadio Olimpico, il derby Lazio-Roma, l'area del Foro Italico,